selvaggia lucarelli attacca jessica morlacchi finita al centro del ciclone mediatico suo malgrado dopo che memore migi a oggi è un altro giorno rai 1 le ha toccato il sedere di soppiatto naturalmente la giurata di ballando con le stelle non sta dalla parte del cantautore che oltre ad aver fatto una figura tutt'altro che esaltante è stato licenziato da viale mazzini la lucarelli su tale caso si è già pronunciata ed ha condannato il comportamento di remigi e quindi perché se l'è presa con jessica perché in una puntata recente di oggi è un altro giorno in cui si è parlato di ballando con le stelle e pure dell'insulto che iva zanicchi le ha rivolto l'aquila di ligonchio le dato della tro asterisco a la morlacchi ha fatto delle facce in cui ha lasciato trapelare il suo essere stufa ma si proceda con ordine iva zanicchi dopo essere stata giudicata da selvaggia ballando ha sussurrato all'orecchio del suo partner samuel peron la prolina tro asterisco a riferendosi a selvaggia peccato che il microfono fosse aperto e si sia sentito tutto dopo la figuraccia iva ha chiesto scusa peron e ghilermo mariotto sempre dopo il fattaccio sono stati invitati da serena bortone nel talk hanno parlato del percorso della zanicchia ballando e delle scintille avute con la giornalista e giurata di millicar ed è in questo frangente che la morlacchi è stata inquadrata mentre faceva delle facce che sono state tutte un programma dalla serie ne abbiamo piene le tasche di questa storia ora la lucarelli è tornata sulla questione ed ha attaccato l'affetto stabile dello studio orchestrato da serena bortone per me memore migi sta bene dove sta cioè a casa a palpeggiare il suo divano ma spero che jessica morlacchi impari a non fare faccette annoiate quando si parla di sessismo non era la prima volta e prenda la parola per dire che le donne non si palpano e non si chiamano troppo e perché sono cose gravi allo stesso modo così selvaggia lucarelli in una storie sin